Chiediamo di consulenze che sono state veramente date a destra e a manca, ma consulenze costose e ancora non ha portato a nulla. Anche su questo faremo altre interpellanze e chiediamo veramente un atto di responsabilità nella gestione della cosa pubblica. Grazie. Grazie. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza urgente all'ordine del giorno. Comunico che è deceduto l'onorevole Giovanni Allasia, già membro della Camera dei Deputati nella nona legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto per venire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Avverto che è stata presentata una questione pregiudiziale riferita al disegno di legge numero 3201 di conversione del decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare civile e processuale civile, che, come preannunciato ai gruppi, nei termini di cui all'articolo 96 bis comma 3 del regolamento, sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì 7 luglio, dopo il seguito dell'esame delle mozioni in materia di espropriazione della prima casa. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 6 luglio 2015, ore 15.30, discussione generale della proposta di legge recante a disposizione in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dallo spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Discussione generale della mozione concernente iniziative di competenze in relazione alla vicenda della cooperativa Il Forteto. La seduta è tolta. Grazie. 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 Grazie.